E' stato davvero emozionante l'abbraccio dei bambini, il loro stringesi forte al nostro colmo. Ci vedevano come l'unico mezzo per raggiungere la riva e un posto sicuro. Altrettanto bella è stata la fiducia riposta dai genitori che ci hanno affidato i loro bambini stremati da una lunga traversata. Era l'unico modo per raggiungere la spiaggia dove da attendere c'era il personale medico e sanitario. Avevano con noi vinto la paura, la paura della traversata, la paura dell'oscillazione del veliero incagliato nella spiaggia tra le onde del mare.